Sono Adriano Vecchiotti e questa è la mia terza lezione. Io partirò da delle conclusioni che traggo dalla prima e dalla seconda. Ora, io volevo dire questo, che gli uomini, l'uomo sapiens e i topi sono le specie animali più opportuniste, ovvero con una grande quantità di mutazioni, si sono potuti diffondere a tutte le latitudini e in tutte le situazioni. La grande differenza tra un topo e un uomo sapiens è questa, che i topi non hanno mai sterminato la propria specie, mentre l'uomo sapiens ha eliminato tutti gli altri uomini e sta eliminando e si elimina tra di loro con guerre. Per cui ci sono situazioni non solo di genocidio, ma anche e soprattutto situazioni di sterminio, per cui di guerre continue, cosa che non c'è nel mondo animale. L'uomo e la specie umana era l'evoluzione dei diavoli, nel senso che l'uomo doveva avere il libero arbitrio e con il libero arbitrio poteva andare verso il bene, ma non è affatto un grosso uso, tanto è vero che si comporta più o meno come un diavolo. Non ha una differenza enorme, perché addirittura il cannibalismo era presente fino a 500 anni fa. Noi abbiamo una conseguenzialità di genocidio, cannibalismo e infine di schiavismo. Lo schiavismo, che noi consideriamo una cosa bruttissima, invece è stata un'evoluzione sociale, perché bene o male il popolo vinto non veniva né ucciso né divorato, veniva venduto. Ora, il Dio creatore si immaginava invece che l'uomo potesse avere veramente una sua evoluzione, però ha dovuto prendere atto che così non è stato. Ora, noi dovremmo essere precipitati, secondo una logica divina, nel mondo degli spiriti vaghi, ovvero degli spiriti che bene o male sono dei rifiuti, dei volutivi, come più o meno i diavoli. Questo non avviene, per cui abbiamo continuamente un canale evolutivo, operativo, grazie all'intervento di Gesù Cristo, che è una sua emanazione. Ora, il Dio creatore tollera il male, tollera il male degli uomini, tollera tutte le nefandezze che gli uomini fanno, soprattutto i loro ossibili. e il miracolo è che, nonostante il fatto che siamo un'evoluzione sbagliata, un qualcosa che non ha ottenuto il risultato, comunque esistiamo ancora. Non siamo stati eliminati. Ora, sempre da Giovanni Battista, ogni albero che non produce buoni frutti viene tagliato e gettato nel fuoco. E il miracolo è che siamo tollerati. Siamo tollerati in un sistema dove, teoricamente, non dovremmo essere tollerati. Ora, l'uomo, nella sua natura, naturalmente, è portato a fare il male. Perché è figlio di un diavolo pentito. Per trovare il bene, dove deve andare? Deve andare a scavare nella propria anima. Ma nella superficialità c'è il male nella coscienza dell'uomo, ovvero il suo opportunismo. L'uomo è un animale opportunista, di natura. Per non essere un animale solo opportunista, ma anche evoluzionista, deve arrivare alla sua anima. Ma tantissime persone si sono dimenticate di avere un'anima. L'hanno rimossa. Come hanno rimosso il concetto di verità, come hanno rimosso tutta una serie di cose che comunque non la vedono più attuali. Rimosso è anche il senso di colpa, o almeno è stato rimosso e confinato nell'incoscio. Nell'incoscio è stato confinato anche Dio. Noi continuiamo ad avere delle ritualità su Dio che sono dei fossili, privi di senso. Per cui, visto che si faceva così, lo rifacciamo ancora oggi. Bisogna vedere se Dio gradisce i nostri riti, le nostre conseguenze logiche. Ora, l'uomo, quando vive una vita superficiale, più o meno nel male, e dovesse morire, non viene rivendicato nessuno. E per cui finisce nel grande serbatoio degli spiriti vaghi. che vagano, non sanno bene cosa fare. Hanno una cosa per cui non si sentono né portati verso il mondo del male, né portati, perché non lo capiscono, nel mondo del bene. E nessuno li rivendica, nessuno dice, no, sono spiriti miei. a parte una serie di uomini che vengono proprio risucchiati nelle terre oscure. Dove c'è il male, e il male è in qualche modo la presenza fondamentale. Ora, l'uomo, molti uomini, si convincono che non è importante scoprire la parte buona dell'uomo andando a scavare la sua anima. ma si convincono dell'altra cosa. Si convincono di avere un talento naturale. Per cui pensano che questo talento naturale sia un dovere sociale che il mondo lo riconosca. Ovvero, io sono un grande ballerino di danza classica. Ma non è vero. Però, tutta la mia vita lo imperno su questo fatto che devono tutti sapere e riconoscermi questo merito. risultato finale quando l'uomo non ottiene il successo come tanta gente che si scontra di fronte alla realtà forse non interessa a nessuno che lui sia un grande ballerino di danza classica ma nel 90% dei casi non lo è neanche. Allora, che cosa pensa? Di essere perseguitato. Di essere non solo perseguitato dagli uomini ma anche da Dio. il Dio cattivo che non gli permette di essere un grande ballerino di danza classica. E questo è una visione che ci riporta a una umanizzazione del pensiero divino. Il pensiero divino non è un pensiero umano. È un pensiero molto superiore. Del fatto che ci sia un'esigenza umana a Dio queste cose interessano pochissimo. Perché tanto per Dio noi siamo un transito non siamo un punto di riferimento culturale eterno. Eterna è la nostra anima. Ma sono due cose molto separate. La morte è il traguardo di una vita. È il momento in cui l'anima finalmente si libera del corpo e può vedere i risultati del proprio esistere. Della propria esistenza. La vita è un transito ha un suo tempo definito e la morte è la fine della vita per cui in quel momento si tirano le somme sia nel bene che nel male. Questo dovrebbe essere una cosa vista in un certo modo e invece dall'uomo comune pensano che la morte sia la disgrazia vitale. Perché? Perché distrugge tutti i beni accumulati in una vita. Dice io non posso aver fatto tutti questi sacrifici per avere dei beni che non posso portare nell'aldilà. per cui questo è un segno secondo molte persone del fatto che Dio non ci ama perché ci ha proposto la morte. La pratica quotidiana della verità porta l'uomo ad entrare in armonia con la propria anima e per cui impedisce ai parassiti di entrare dentro il nostro corpo. Il parassita comunque se entra nel nostro corpo dove ci porta? Ci porta al quadrato negrotico per cui l'uomo finisce sballottato da una parte all'altra non ci porta a un'evoluzione perché il parassita comunque è l'elemento disturbatore della nostra evoluzione. Nel mondo greco si diceva questo quello che noi chiamiamo carattere in realtà è un daemon e quello che noi consideravamo essere un daemon in realtà è il nostro carattere. Ora il concetto è questo di base che noi alla fine ci identifichiamo nel parassita il parassita che sarebbe un diavolo che è entrato dentro di noi in piccola parte o in grande parte ci conduce ci conduce a cosa? Ci conduce a cambiare la nostra predisposizione al bene che si esaurisce noi entriamo a una banalizzazione della nostra vita cosa vuol dire? Vuol dire che noi nella maggior parte dei fatti della vita ci sfugge il senso il senso della nostra vita ci sfugge perché il nostro giudizio i nostri sensi sono imperfetti ma crediamo di sapere tutto di conoscere la verità in questa zona buia l'ignoranza si annita il male le dinamiche di apprendimento si arrestano di fronte alla presunzione umana di aver capito tutto e c'è una totale banalizzazione di tutto per cui Dio è responsabile di tutti i mali del mondo si l'uomo è sempre innocente l'uomo non fa cose cattive invece è il contrario il male sta nell'uomo e non in Dio ma l'uomo non può dire io sono il male ovvero io non avendo scavato dentro me stesso non ho capito niente o forse non sono arrivato a nessuna conclusione logica per cui c'è la banalizzazione generale diffusa di cose importantissime una cosa è il rapporto tra l'uomo e Dio che viene banalizzato in una serie di riti e di e di consuetudini che comunque non hanno più senso almeno nessuno si occupa più di sapere se questi hanno un senso il primo uomo sapiens quando si trovò ad avere la possibilità di avere un'anima di essere operativo la prima cosa che fece sterminò uomini e bestie e e vita che gli erano inutili per cui tutto ciò che gli era inutile al mondo fu eliminato quando un uomo teme che non ci sia più cibo per tutti che cosa fa comincia a divorare tutto quello che può in forma convulsiva per cui enormi frigoriferi pieni di cibo che normalmente va a male o di oggetti completamente inutili fino a arrivare al collezionista che colleziona cose che sono ufficialmente inutili che non hanno nessun senso però sono tutte le sue carenze affettive per cui il collezionista che cosa fa quando deve muoversi parte e dice io per questo oggetto io farò qualsiasi cosa e noi abbiamo collezioni sterminate di cose perché ogni volta che c'è un problema si risolve con l'acquisto io acquisto questa cosa e bene o male mi sento meglio se non riesco ad essere un consumatore io comunque non ho più senso di esistere ora noi vediamolo da un altro punto di vista che è molto più importante per noi noi abbiamo spesso un fratello una moglie morta un parente molto stretto con cui abbiamo avuto un forte legame che quando muore ci aspetta non va nell'aldilà rimane in questo mondo spetrale perché aspetta di andare insieme di partire insieme e di aiutarsi a vicenda io ho avuto un'esperienza con mio fratello che in molti sogni mi ha chiesto perché lui era morto prima di me anche se era più piccolo mi ha chiesto varie volte se ero interessato ad andare all'aldilà con lui in questo caso io ho sempre detto assolutamente sì perché comunque siamo due ci siamo sempre difesi a vicenda nel passaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti si lambiscono le terre oscure dove sono in qualche modo luoghi del male dove il male è sovrano per cui c'è il pericolo di essere risucchiati dalle terre oscure in questa vita noi abbiamo dovuto affrontare innumeriboli prove da sforzo ovvero situazioni estreme dove abbiamo dovuto dimostrare a noi stessi che siamo riusciti a uscirne eticamente sani non ci siamo fatti corrompere però comunque le nostre prove che abbiamo dovuto affrontare sono state prove molto dure che ci hanno dato il desiderio forte di andare nell'aldilà perché quando noi moriremo dobbiamo essere fortemente motivati a raggiungere Dio per cui quando si vada nell'aldilà noi dobbiamo riuscire a uscire dal mondo degli spiriti vaghi ed entrare in un mondo diverso lo spirito il mondo degli spiriti il mondo dello spirito perché andiamo verso Dio non ci fermiamo in questa terra di mezzo e per questo bisogna avere una volontà molto ben precisa molto costruita da che da tutte quelle prove da sforzo che abbiamo fatto durante la nostra esistenza che ci hanno permesso di fortificare la nostra volontà l'uomo ha una stranezza perché il suo quaziente intellettivo nell'ottomila nel trecentomila anni fa cambiò completamente l'uomo fece un salto da quadruplicando la scatola cranica i teschi di un prima e dopo sono irriconoscibili perché perché cominciò a mangiare meglio ma secondo me perché in quel momento entrò l'anima che creò un'enorme evoluzione nel 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 cervello dell'uomo sapiens sapiens ma anche nel cervello dell'uomo sapiens neandertal che hanno anche loro avuto più o meno il nostro sistema evolutivo ma la cosa drammatica che l'uomo di neandertal che era un uomo come noi aveva una struttura diversa a livello fisico aveva delle caratteristiche diverse a livello fisico perché era molto più forte più grosso eccetera eccetera e aveva già capito delle cose fondamentali come l'arte di conservare i cibi attraverso la fumigazione fu spazzato via dall'uomo sapiens sapiens perché l'uomo sapiens sapiens aveva elaborato la la lancia che era una una un'arma all'epoca rivoluzionaria perché era la prima arma da getto che l'uomo di neandertal non aveva non sapeva neanche che cos'era quando si vede attaccare con questa lancia che gli si infilava nel cuore non capiva che cosa era successo sentiva solo un gran dolore e capiva che qualcosa era successo però alla fine l'uomo di neandertal fu cannibalizzato dall'uomo sapiens sapiens ora in qualche modo la stessa cosa noi troviamo nei delfini il quaziente intellettuale dei delfini è pari a quell'umano il delfino potrebbe essere una razza che sta avendo un'evoluzione enorme perché i delfini se trovano un essere umano che sta affogando lo aiutano anche se è malato sono attratti dall'uomo malato o anche dal delfino malato cercano subito di aiutarlo che vuol dire che hanno un senso del bene molto forte ora torniamo all'uomo allora l'uomo nell'ottomila anni fa in Mesopotamia ha inventato l'agropastorizia la maggior disponibilità di cibo per cui questa maggior disponibilità di cibo permetteva anche la crescita dei neonati che non potevano essere ben accuditi se la tribù doveva correre dietro ai branchi di bufali il momento stanziale ha aumentato di molto la popolazione ha aumentato di molto le riserve alimentari e ha creato i presupposti della divisione dei ruoli la divisione dei ruoli crea la civiltà per cui noi abbiamo tutta una serie di persone che possono in qualche modo avere ruoli diversi ora le terre comuni che erano nel mondo dei cacciatori diventano terre individuali nel mondo dell'agricoltura dell'agropastorizia queste sono le terre di una persona chi non ha terre muore di fame per cui deve diventare servo per sopravvivere di chi ha le terre per cui si comincia a creare una società in classi sociali il padrone delle terre è un proprietario terriero il salariato è uno che cerca disperatamente un lavoro presso questo proprietario terriero e il giorno che il proprietario terriero non gli dà il lavoro lui può anche morire di fame ora c'era nel sud Italia le terre comuni che ancora c'erano le terre comuni davano la possibilità di sopravvivere alla gente meridionale ogni paese c'era terre comuni dove si poteva andare a cacciare dove soprattutto si raccoglieva la legna per l'inverno cosa che scomparì con l'unità d'Italia le terre comuni non esistevano più perché furono vendute furono anche quelle tolte alla popolazione al popolo e privatizzate l'uomo è l'unico animale su questa terra che sa di dover morire un cane un gatto non sanno che devono morire vedono la morte ma non la capiscono e pensano comunque si estendono a loro l'uomo sapendo di dover morire capisce potrebbe capire il concetto di invecchiamento l'invecchiamento che cos'è? è una premorte per cui l'anima esce dal corpo e il corpo che tendenzialmente si raggrinza proprio come un vestito quando uno si toglie un vestito questo fa diecimila pieghe e l'anima tende a uscire fuori ora visto che il transito è la base del nostro modo di essere l'invecchiamento dovrebbe essere un movimento fortemente conoscitivo perché la vecchiaia che cosa ci dovrebbe dare? la saggezza il fatto che tu alla fine avendo provato di tutto riesce a darti delle idee su che cosa è stata la tua vita cosa che era considerata fondamentale del mondo greco l'anziano nel mondo greco era una fonte di saggezza perché poi invecchiando diventava sempre più saggio nel nostro mondo l'anziano è un cretino è un po' raccio che normalmente in autobus si strattona perché non si è spostato con la giusta velocità e questo si fa capire come l'uomo è cattivo non riesce a non essere cattivo perché c'è sempre quest'idea che deriva dell'uomo sapiens del periodo diciamo delle caverne che era aggressivo delle altre è una specie molto prepotente l'uomo è la specie più prepotente che abbiamo nel mondo animale quando arrivavano i goti o arrivarono ancora prima i galli fecevano piazza pulita di quello che trovavano davanti non è che stavano a pensare ci dobbiamo infilare con molta educazione nella valle padana no noi sterminiamo tutti e li cacciamo e li hanno fatti morire i popoli pre 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 pregallici perché perché non erano utili l'utilità dice questo cane mi è utile no l'ammazzo questo uomo mi è utile no lo uccido questo non permetterà mai all'essere umano di poter andare nei mondi superiori ora se noi prendiamo atto che la incarnazione quando noi usciamo usciamo nudi la nostra anima è nuda con brandelli di immagine immagine nella nostra vita per cui noi abbiamo dei flash della nostra esistenza ce la rivediamo per flash l'anima comunque bene o male viene attratta dalla luce però è piena di ricordi è piena di immagini l'unica cosa che attrae è la luce ora dobbiamo sapere che comunque abbiamo nella nostra propria natura che si sono incarnati esseri di luce esseri d'aria ed esseri di fuoco gli esseri d'aria e di luce diventeranno le guide degli esseri umani gli esseri umani saranno guidati mentre invece gli spiriti di fuoco diventeranno i guerrieri di Dio ovvero freeranno dei cerchi concentrici attorno alla divinità in modo che sia difesa da questi spiriti questi spiriti diceva Giovanni Gentile che noi li vediamo come il sole ma non sono il sole sono gli spiriti di fuoco che hanno avvolto l'immagine del Cristo l'essenza del Cristo dentro c'è il Cristo e con questa terza conferenza per un po' di tempo facciamo passare un po' di tempo per vedere di farne altre grazie